Vino rosso, zucchero, scorza d'arancio e limone, cuocere, finito, cuocere le patate, pulire, olio extra, sale, pepe, schiacciare bene, filetto di salmone, squamare, cospargere la pelle con sale, olio extra, aggiungere il salmone e premere 10 secondi, scottare bene da tutte e due le parti, patata schiacciata, togliere il coppapasta, salmone, riduzione di vino rosso, e mangiare! Mmm, ottimo!